Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati dal vostro amico Lipiduel200, siamo qui oggi sul secondo video Ragazzi, era da tanto tempo che non facevo un video su questo gioco Anche perché mi sono parecchio appensionato Dovrei portarvi anche Empire Z Game of War in Empire Star Wars ve lo porto oggi E la Galassian Guerra Che vi porterò prontamente domani Ah, per farvi sapere, nella Galassian Guerra Sto facendo in questo momento 4 incrociatori Non ci vuole un'ora per completarmi Tro, caduto E un'altra cosa La notizia che vi sto per dire ragazzi Non è che va presa con le pinze Va presa con le pinze vellutate Potrei portarvi una serie Una playlist su un gioco di carte molto famoso Che è Yu-Gi-Oh Che mi è stato regalato un deck da un mio amico E mi ha chiesto se ci potevo fare un piacere Allora, a me è sempre piaciuto vedere Yu-Gi-Oh Avevo sempre intenzione di iniziare a giocare ma non ero Cioè non ero capace di giocare Yu-Gi-Oh E questo mi si presenta a questo mio amico Qua faccio Vabbè dai Imparo a giocare Sabato vado dal mio amico E se ci riusciamo sabato magari oltre a portarvi video su Outlast Quello di carte Anche Outlast prendete un po' con le pinze E anche The Walking Dead O la Speedrun Ragazzi prendete tutte queste Una cosa sicura che potremmo farvi sabato Non lo so Vedremo E comunque Sprendete la molto con le spine appunto la notizia della Come si chiama Della Della Del gioco di carte Perché non si sa Allora Volevo vedere un attacchino perché ne ho fatti parecchi di recente E vincevo anche Quindi volevo vedere se a sto giro magari riuscivo a vincere qualcosina E vabbè mi hanno già sfondato tutti i carri quindi No Non riesco a vincere Le busco e basta Ma neanche da arrivare a 50 Dai è arrivato a 50 No Mi sparano Che coglioni Madonna Questi qua si sono tipo chiusi da guscio No Non arrivo a 50 Me lo ammazzano quel soldatino qua 94 Me lo ammazzano prima Ma forse Guarda se arriva a 50 ti giuro Faccio festa estrema Già mi metto a rullare per tutto il paese No È la madonna Però anche te gioco bastardo Potevi eh Cazzo 48 È rimasto solo lui Madonna quanto togli Per pochissimo Brutti bastardo Eh vabbè dai ci rifaremo C'ho anche 200 e qualcosa medaglie Ma perché mi fai un replay fatto Chi le scoppia male Dai 48% Però anche tu brutto infame Potevi avere pietà di darmi la stellina No Bastardo Ne avevo 200 e qualcosa Fa Allora comunque Potenziato parecchio la fabbrica E ho sbloccato queste quattro unità Voglio arrivare alla quinta Che è praticamente È devastante Una tecnica che utilizzo Che si dimostra efficace È quella di schierare Due carri E due camminatori qua Che non so esattamente Come si chiamano Però questi camminatori qua Piccoli con i missili Si trovano in Star Wars Il potere della forza E sono parecchio Allora devo dire Che quei camminatori lì Resistono poco Però fanno tanto danno E poi uso Due di questi qua Perché se uso quello sotto Mi fanno il culo Ciao papà E lo so finisco E quindi niente ragazzi Allora Vediamo di fare Una ricerca Vediamo Allora 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 Questo Ricerca Ok ragazzi Se il video di oggi vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Un commento E ci si vede al prossimo video Ciao a tutti ragazzi